Oggi mi sono emozionato tanto perché a concedarmi alla porta di Sant'Anna era una delle due famiglie che sono nella parrocchia di Sant'Anna nel Vaticano accolte lì siriani, profugi. Si vedeva nel volto il dolore di questo. Quella parola pace e io vi ringrazio tutto quello che voi farete nel vostro lavoro per fare ponti, piccoli ponti, ma un piccolo ponte o un altro, un altro, un altro fa il grande ponte della pace.